Il dipinto di Pietro Perugino che è alle mie spalle e che raffigura una Madonna col bambino e Santi ha bisogno di restauro. L'accordata di imprenditori che molto gentilmente offriranno l'intervento ha pensato ad una delle opere più importanti attualmente della città di Senigallia. Il dipinto di Pietro Perugino Il dipinto di Pietro Perugino Il dipinto di Pietro Perugino È un'opera che ha un suo pandan, una sua replica, una sua riedizione in un dipinto di analogo soggetto che si trova nella chiesa di Santa Maria Nuova di Fano. Questo dipinto di Senigallia è un po' avvolto dal mistero perché sono molti ancora i dubbi che riguardano l'opera, che riguardano il suo luogo di costruzione della pala, che riguardano la committenza, che riguardano anche la data di esecuzione. Tutti elementi che speriamo di chiarire comunque in questo intervento imminente che dovrebbe appunto riportare un po' di ordine in questa tavola che è stata particolarmente importante non solo per la città di Senigallia ma per le Marche. Il dipinto di Senigallia ma per le Marche. Il dipinto di Senigallia ma per le Marche. Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.